Chateau Dax, l'unica con i tripli saldi, 50 più 10 più 10%. L'unica che puoi acquistare in 10 rate a tasso zero. Divano Greg, da 1726 a 699 euro. Parete Street, da 3945 a 1597 euro. Mobili Cucina Portofino, da 6568 a 3284 euro. Letto, completo di rete ortopedica con movimento comodo per rifarlo senza fatica. Materasso in Memor Dax, due guanciali e completo parure da 4194 a 1698 euro. Chateau Dax, l'unica che ti offre 10 anni di assistenza garantita. Sugli imprevisti che possono succedere alla tua casa e sugli arredi acquistati, avrai una squadra di pronto intervento a tua disposizione. Per arredare la tua casa, scegli i tripli saldi Chateau Dax. Chateau Dax, l'unica. Chateau Dax, l'unica.